Una puntata speciale di Polifemo, Polifemo diversamente Natale, siamo in quel di Marugio, provincia di Taranto. Vi stiamo facendo vedere quello che è poi il momento più significativo di questa puntata, l'accensione dei fuochi a simboleggiare l'attesa, la forza del fuoco, dello spirito che ci prepara ad accogliere la nascita di Gesù Bambino. Faremo un giro all'interno di Marugio, vedendo le sue bellezze, vedendo come è stata magnificamente addobbata con i giochi di luce, con queste luminarie natalizie, ma anche tante tradizioni, un corso partendo dalla piazza, il centro storico che ha la sua suggestione. Allora, sindaco, un comune, Marugio, che ha poco più di 5.000 abitanti, ma che ha tanta storia, che ha tante tradizioni. E quello di stasera è un punto fermo delle tradizioni di Marugio. Siamo nel centro storico di Marugio, millenario centro storico, perché come è noto Marugio è stata commenda magistrale dell'Ordine di Malta per 500 anni e qui, proprio in questo luogo, si possono notare tanti palazzi e dettagli risalenti proprio all'epoca. Questa è una tradizione ormai centenaria e Marugio ospita, quest'anno potrà farlo meno, perché ovviamente a causa del Covid e della zona rossa non è possibile, ma ospita normalmente tantissime persone e tantissimi turisti proprio in queste viuzze. Assessore, a Marugio è sempre storia ed è sempre tradizioni. L'estate Marugio diventa una meta turistica eccezionale, bandiera blu, ma d'inverno le sue tradizioni storiche appunto rafforzano il DNA, il senso di appartenenza alle tradizioni di chi abita a Marugio, ma anche di chi viene a vedere, quest'anno ovviamente, no per le restrizioni, queste tradizioni. Sì, anche Natale comunque. A Marugio è un periodo in cui richiama tanta gente dei paesi limitrofi, perché comunque abbiamo una comunità unita, molto solidale, molto laboriosa, che permette di realizzare a Marugio sempre un Natale ricco, ricco di luci, ricco di colori, ricco di eventi, di manifestazioni. Ahimè quest'anno è un diversamente Natale, ma comunque per noi a Marugio l'area di Natale, ancora la magia del Natale la respiriamo. Ecco, abbiamo voluto iniziare, dare inizio a questa puntata, partendo ovviamente dal fuoco, dai tronchi che ardono e l'aspetto simbolo del Natale di Marugio. Ma appena arrivati, appena ho avuto modo di parcheggiare, mi ha colpito il Museo dei Presepi. E allora prima di incamminarci nella piazza, nel centro storico, vogliamo dare lustro a questo Museo dei Presepi, con un artista eccezionale, lo scopriremo subito, Francesco Vaccarella. Un'atmosfera davvero suggestiva, tipicamente natalizia, con quei colori davvero caldi, con quella luce gialla, calda, che dà tanta serenità e che fa tanto Natale. E in questa oasi da favola, che è il Natale a Marugio, ho scoperto, veramente mi ha così condotto qui l'assessore Anna Maria Gioia, la mostra dei Presepi di Franco Vaccarella. Ho visto vari Presepi, ma davvero così belli, così raffinati, con tanti particolari ed una eleganza formale notevole, non comune, devo dire, difficilmente, raramente li ho trovati. Siamo qui, appunto, presso la mostra dei Presepi, ecco, vedete, già penso che le immagini parlino da sole, ma prima, ecco, guardate già il primo manufatto, vedete proprio, questi vengono, sono costruiti, realizzati nella maggior parte in polistirolo e in materiale anche di legno, ma vedete proprio la precisione, persino la indicazione della via, via largo vicolo. Spostandomi, e questi sono dei Presepi che sono stati, questo risale al 2019, quindi parliamo appunto soltanto dello scorso anno, idem dicasi per questo, notate proprio la caratteristica, addirittura le tegole, guardate con che certosina pazienza sono state realizzate, o anche qui, per esempio, i vari battenti, ecco, della porta, il vaso con i fiori, voglio dire, proprio la dovizia di particolari, vedete questo quadro d'assieme, qui anche, per esempio, il carretto con i vari frutti, ma frutti davvero uno per uno, cioè una certosina pazienza, un grande amore, evidentemente, guardate, sembra pietra viva, ma in effetti è, penso, polistirolo in questo caso. E allora abbiamo l'artista, l'artista è una persona molto schiva, molto timida, come tutti gli artisti, ecco, fanno parlare i fatti e non le parole. Assessore, gioia, davvero un orgoglio per la collettività di Maruggio, avere una eccellenza artistica del genere. Assolutamente sì, Franco si è sempre distinto per la sua capacità, per le sue realizzazioni, per le sue opere, e come dicevi tu, poc'anzi, si parlano da sole, la maestria e la cura dei dettagli. È una realtà riprodotta, simulata, ma sembra davvero qualcosa di reale. Assolutamente sì, è la realtà, è la cura dei dettagli, no? Che risale da questi presepi, dove anche tu, poc'anzi, hai parlato delle particolarità che Franco realizza e ci mette la sua maestria, la sua passione, parlano tanto di lui, della sua passione, ma anche delle nostre tradizioni. Qui abbiamo delle foto, ecco, certo, delle foto che rappresentano presepi di altri anni, ma proseguendo, vedete anche quest'altro presepe, questo è del 1995, è bellissimo perché proprio si sofferma sulla grotta, una grotta, vedete, che è tutta in pietra, la parte appunto esterna, guardate, è proprio con le fascine di legna, davvero qualcosa di fantastico. Qui invece abbiamo un angolo del centro storico che è stato riprodotto. Vedremo tra un po' anche la Chiesa Madre, nell'altro vano, che appunto come caratteristica di materiale di costruzione è molto simile. Ma davvero questo è un angolo di meraviglie, di certosina pazienza, perché i presepi sono uno più bello dell'altro. Se dovessimo effettivamente fare una gara tra l'uno e l'altro ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta. Guardate qui ancora altri proprio particolari, guardate addirittura pure la fune, no? con la cesta contenente appunto degli alcuni alimenti. E qui, guardate, un'opera ancora bella delle colonne. Guardate qui, queste dovrebbero essere in pietra, almeno toccando così sembra. Guardate questa arcata e all'interno appunto la natività. spostandoci poi abbiamo il piccolo borgo, appunto presepi maruggesi. E qui ci sono, proprio, vedete, abbiamo menzionato, Assessore, abbiamo menzionato i dettagli. E qui davvero c'è la fiera, la mostra dei dettagli. Abbiamo una bellissima vetrina qui, no? Che racconta dei dettagli che il nostro Franco riesce a realizzare, sempre con lo stesso materiale. Guardate qui, guardi, Assessore, sono proprio le minuzie, qui addirittura ceci, ma proprio qualcosa di, i panini e le varie forme di panino. Sì, sì, scamorza, pane, panzerotti, no, è veramente la maestria, è sempre distinta. Ecco, se vedete anche le varie tipologie, pane, scamorza, panzerotti al forno, provolone, zucca, formaggio pegorino, proprio l'attenzione proprio del dettaglio. Qui guardate la stesura, no? Della pasta, e quindi per fare il pane, guardate lì il matterello. C'è qualcosa proprio di inimmaginabile. Ripeto, bisogna avere delle doti particolari e madre natura che ha dato questo talento. Esattamente, un dono, direi un dono. Si è sempre distinto, infatti, Franco per questo. E invitiamo in momenti più sereni, dove magari le restrizioni Covid possano permettere di spostarsi, di visitare questa mostra dei presepi di Franco, perché ne vale assolutamente la pena. Oltretutto il signor Vaccarella ha avuto anche dei riconoscimenti, leggevo appunto a Verona, quindi parliamo di una realtà, di una appunto capacità che è a livello nazionale. Ma ci spostiamo, ecco, facciamo solo proprio 10 metri e accanto a questo locale venne un altro. Guardate questo, ecco, una delle zone, delle parti di Maruggio addobbate a festa, perché è vero che stiamo vivendo, Assessore, un periodo difficilissimo, però lo spirito vuole anche la sua parte, cioè un po' di coraggio dobbiamo anche darcelo. Ci siamo impegnati quest'anno per l'illuminare, nonostante comunque abbiamo affrontato in maggioranza questo discorso, probabilmente per alcuni poteva essere un fuoriluogo, ma in realtà no, per noi è molto importante, per noi è segno di luce in questo periodo triste, è segno di speranza e soprattutto vedrai le luminarie in piazza e abbiamo realizzato con le tre luminarie un villaggio di Babbo Natale e quello è stato un dono soprattutto, una scelta fatta soprattutto per i bambini, perché sicuramente non è giusto privare loro della magia del Natale. Ecco, entriamo in presa diretta e vedete qui questa realizzazione fantastica della chiesa madre di Maruggio. è davvero un'opera favolosa, cioè proprio viene riprodotta, guardate anche all'interno, cioè proprio... Franco, quanti anni di lavoro? Un anno e tre. Un anno e tre mesi di lavoro? Un anno e tre mesi di lavoro. Per la realizzazione? Lo credo perché poi guardate tutti questi particolari, guardate anche qui il rosone con la presa di luce, ma anche se vedete proprio tutte le finezze architettoniche, gli archi, proprio è qualcosa di certosino, ripeto. Franco, cos'è che ti ispira quando questa voglia, questo tuo amore per Maruggio? Sì. Una grande passione. Sì. Io ho fatto il lavoro per la chiesa. Io avevo fatto il lavoro già a vent'anni, vent'anni, più di più, quando avevo ragazzo, pure mo'. Ebbè, è una passione, una passione... A me mi piace la passione, mi piace molto. Mi piace. Sempre, ogni giorno, lavoro fino a cominciamo, fino a gennaio, poi fino a dicembre. Ecco, vedete, è davvero un'opera. L'arte alloggia a Maruggio. Guardate qui altri particolari, le porte. Proprio sembra una coppia, un plastico quasi, quando si fanno i progetti, si rappresenta il progetto, prima ancora di realizzarlo, su plastico. Qui invece abbiamo proprio la riproduzione, assessore proprio della chiesa. Lei la conosce certamente meglio di me. In tutto e per tutto, nelle proporzioni, è lei. Di nuovo queste tegole, guardate, precisissime, è proprio qualcosa di favoloso. Ebbè, l'arte, come la classe, come si suol dire, non è acqua. Mentre osservavamo, contemplavamo, i presepi, l'assessore Gioia ha menzionato la piazza, gli addobbi, Babbo Natale, le renne, i doni, le slitte. Insomma, la stella è tutto uno spettacolo, è tutto un qualcosa di luci sfavillanti. Sì, è vero, abbiamo realizzato tipo il villaggio di Babbo Natale, i doni, l'albero di Natale, le renne e Babbo Natale che è stato pensato soprattutto per i nostri bambini. D'altronde, lo dicevamo poc'anzi, è vero che purtroppo l'umanità vive forse la tragedia più grande degli ultimi 60 anni, però i bambini devono anche vivere, il loro cuore si deve aprire alla speranza, alla vita, altrimenti si unirebbe trauma su trauma e viceversa in questo modo comunque si apre il cuore alla speranza. I bambini non capiscono tante cose e certamente questo clima li rende più festosi e non fa capire quello che sta accadendo. Assolutamente, non possiamo privare l'oro della Maggia del Natale, sarebbe una vera e propria ingiustizia. Crudeltà proprio. Sì, crudeltà. E quindi nulla toglierò la possibilità di fare una passeggiata con la famiglia per fare la spesa, per fare un acquisto, anche solo per fare una passeggiata senza assembramento e senza creare situazioni sempre nel rispetto delle regole anti-Covid e di godere di quella che è l'atmosfera, respirare proprio l'atmosfera natalizia ed emozionarsi perché magari io immagino un bambino che è giunto qui in piazza si guarda intorno vede tutte queste luminarie la respira l'aria del Natale va da Babbo Natale e chiede i doni per Natale poi vede le slitte davvero belle assessore queste renne che è il simbolo proprio natalizio che portano questi questi doni un dono di speranza e poi e poi anche questo meraviglioso albero con la stella alla punta guardate questo tutto dorato luci appunto dorate e con i doni è il Natale di di Maruggio non c'è Covid non c'è virus che possa spegnere quell'atmosfera che quell'atmosfera magari anche nei più grandi c'è il peso di certe situazioni però queste immagini aprono il cuore fanno sobbalzare la mente il cuore ai ricordi passati in fondo anche alla speranza di un futuro migliore sperando che qui in questa piazza tra un anno come si faceva negli scorsi anni ci siano varie manifestazioni e il Natale torni nella sua pienezza assolutamente Luigi assolutamente è stato è un periodo che buio rattrista sicuramente gli animi e i cuori e le luminarie per noi è segno proprio di di luce non solo cioè metaforicamente ma veramente luce è segno di speranza e di per il futuro perché comunque ci auguriamo che il prossimo anno possa essere animata da grandi e piccini in questo caso e godere di altri spettacoli o manifestazioni caratteristiche che caratterizzano comunque il Natale hanno sempre caratterizzato il Natale ecco vedete poi queste luci ecco il nostro operatore Giovanni ci mostra le varie luminarie e intanto noi ci avviamo pian pianino verso il centro storico e già a pochi metri dalla piazza dicevo altre illuminazioni suggestive vedete qui questi questi cuori guardate di Danzi assessore qui si tratta che opera è? il monumento dei caduti la torre ecco vedete anche qui guardate questo in questi torre dell'orologio mi suggerisce perché io non conosco conosco sommariamente ma ovviamente chi è del posto ha una conoscenza storica anche qui molto bello il cannone e vedete in questa porzione in questo quadrilatero chiamiamolo così quante luci che si addensano e quanto calore umano promana da questo quadro adesso ci avviamo nel centro storico che è stato particolarmente curato non solo dall'amministrazione ma anche dai privati da commercianti ci sono angoli molto carini Luigi che ti invito a visitare perché sono veramente caratteristiche e continuano a far respirare a Marugio l'area di Natale ora lo scopriremo insieme e quindi dopo aver così davvero dopo aver sognato nella nella piazza con Babbo Natale ci siamo addentrati nel centro storico vedete questi alberi di Natale illuminati queste luci calde altre luminarie assessore ci stiamo avviando verso il presepe però ci sono questi vicoli non proprio vicoli però molto suggestive guardate bellissima è stata curata dalla consulta giovanile di Marugio un gruppo di ragazzi che si è dedicato ad allestire questa via in fondo potrai notare anche un albero di Natale avviamoci avviamoci vedete tutto addobbato è un se fossi un regista e dovessi davvero far vivere il Natale sembra quasi un'atmosfera settecentesca ottocentesca come proprio come calore del Natale come qualcosa di davvero favoloso anche un gatto che passa guardate qui un albero di Natale infondono alla scalinata tutto curato sempre dai ragazzi della consulta giovanile di Marugio che si sono dedicati un paio di giorni ad allestire via Castromediano e ci avviamo davvero verso il presepe è qualcosa di fantastico io sento il Natale perché poi ognuno di noi vive le proprie storie la propria vita le proprie gioie i propri dolori però il Natale sa prendere mi fa piacere che Marugio abbia voluto dare dei segnali forti di vita di ripresa perché poi il coraggio in certi casi dobbiamo anche darcelo da soli perché nulla cade dal cielo e quindi percorrendo vedete questa porzione del centro storico ci avviamo verso il presepe e già la musica bianconatale prepara appunto l'atmosfera molto significativo dinanzi a noi e siamo dinanzi alla chiesa madre guardate il gioco di di luci che viene riprodotto di immagini di stelle un gioco di stelle che viene appunto riprodotto sul frontale sulla facciata della chiesa qui siamo vedete ecco è pronto l'accensione del fuoco di questa sera ecco è qui a pochi metri dinanzi quasi alla alla chiesa guardate il presepe nella sua semplicità la la caratteristica delle sagome le sagome vedete di Giuseppe Maria il bambinello il bue l'asinello i pastori ma guardate una la semplicità della grotta un angolo appunto che è stato così organizzato vedete anche qui abbiamo un altro pastore con le pecorelle ecco la sorpresa perché l'assessore ecco ci presenti il nostro autore Pietro Palumieri Palumieri sì sono delle sagome che io realizzai l'anno scorso da sistemare sull'altare quest'anno invece il nuovo parroco ha inteso sistemarle qui fuori magari per per dare un certo creare un certo una certa atmosfera e sembra che la cosa sia abbastanza piaciuta sia piaciuta e sia riuscita sì grazie comunque grazie a lei e complimenti per questa quest'arte torno a ripeterlo davvero suggestivi questi canti natalizi queste voci innocenti di speranza di purezza e questo è il messaggio del Natale un bambinello il re dei re che è nato in una grotta un simbolo per l'umanità per far comprendere che la ricchezza su questa terra è un qualcosa di assolutamente effimero ho trattato questo tema perché ho al mio fianco il parroco della chiesa madre don Alessandro Maier e allora don Alessandro un Natale particolare particolarissimo questo covid ci fa soffrire ma ci fa anche riflettere molto perché su questa terra niente è scontato e non ha senso accumulare accumulare perché poi chi l'avrebbe immaginato un anno fa che il mondo si trasformasse sì certo stare a contatto con questa pandemia e con tutte le difficoltà io credo che ci abbia messo davanti ad una verità che è scomoda però è importante cioè che noi siamo limitati siamo delle creature cioè non possiamo salvarci da soli però se da una parte questa notizia può essere un po' sconvolgente può metterci un po' darci un po' di sospensione d'altra parte però Natale ci ricorda che è vero che siamo creature ma siamo creature di Dio ci siamo figli di Dio e quindi non c'è da temere e può essere che la pandemia sia anche un'occasione per riscoprire i valori più essenziali l'altro giorno il Papa diceva anziché lamentarci dei problemi della pandemia possiamo darci da fare per chi ha bisogno questa comunità di Maruggio si è data da fare perché tutte queste belle opere il presepe varie realizzazioni artistiche Assessore Gioia lo dicevamo prima hanno visto partecipi tanti cittadini giovani e meno giovani c'è la voglia di fare non la voglia di piangersi addosso e allora dobbiamo davvero ringraziare questi autori sono davvero davvero tanti mi piacerebbe ecco fare un elenco un po' perché ognuno deve avere il suo spazio il suo momento di riconoscimento ecco è bello vedere una comunità unita in cui il mondo diciamo della fede il mondo religioso è unito con il mondo istituzionale con il mondo del volontariato con il mondo dei giovani i collaboratori per quanto riguarda la comunità parrocchiale sono tanti ci sono stati alcuni che si sono dati da fare anche per venire incontro alle esigenze dei più poveri con la carità sparrocchiale almeno incontro a una trentina di famiglie che sono in una situazione un po' di precarietà ma poi tutti coloro che si sono adoperati anche per la sistemazione della chiesa per l'addobbo e in particolare anche in collaborazione con l'amministrazione comunale per la realizzazione di un piccolo segno un piccolo presepe un po' sottotono se vogliamo però è importante quello che conta è lo spirito beh sì però anche l'intelligenza perché sono stati intelligenti nel fare qualcosa che diciamo non stimoli molto l'assembramento però che sia anche un segno in un posto di passaggio un segno per ricordarci il vero senso del Natale è una piccola installazione molto semplice però importante grazie anche all'artista Maruggio vanta la presenza di un artista molto conosciuto che è Pietro Palù lo abbiamo appena infatti intervistato e lui ha fornito gentilmente le sagome e pitturate anche alcune sculture e quindi il presepe ha anche un valore diciamo artistico in sé pur nella sua semplicità e poi diversi collaboratori che ringrazio perché si sono messi a lavorare diciamo nei momenti di pausa del lavoro soprattutto Mimmo Zaccaria che è quello che ha fatto diciamo più di tutti ha dedicato più tempo ma non solo c'è anche Francesco poi Franco Galasso e insomma e allora Leonardo Di Miro ecco e allora allora mi piacerebbe Assessore mentre questi suoni ci fanno sentire il Natale queste immagini ci prendono il cuore sentire appunto vedere un po' quali sono stati menzionare questi erano tutti ecco benissimo pensa di sì perché giustamente sono tanti e quindi noi vogliamo omaggiare tutti e non vogliamo appunto fare torto a nessuno il parroco gli ha menzionati tutti i collaboratori che hanno dato vita hanno dato la possibilità appunto di realizzare questo presepe per il centro storico gli ho menzionati prima che è la consulta giovanile del comune di Maruggio e il presidente Francesco Pulieri ringrazio e tutta la consulta che ha collaborato poi abbiamo quel bellissimo angolo dove c'è il vestito di Babboa è stato curato dai commercianti dalle attività commerciali lì adiacenti e Nacosa e Lugliento e poi molti dettagli ad esempio qualche balcone non so se siamo riusciti a inbortarare quelli sì sono privati che anche loro nel loro piccolo hanno cercato di contribuire nell'atmosfera natalizia e far godere appunto chi fa una passeggiata in questo bellissimo centro storico di respirare l'area natalizia Bene per il momento ora dobbiamo attendere un po' fra un po' questa legna accumulata verrà accesa questo falò una volta gli altri anni si faceva una gara tra tre avioni ora quest'anno faremo una cosa diversa in tono minore però lo spirito è sempre questa tradizione non la si è voluta interrompere ma è solo qualche momento qualche secondo e poi rivivremo appunto questa tradizione è in attesa come dicevo pochi secondi fa che la tradizione si ripeta con l'accendersi dei fuochi non potevamo non farvi vedere la meravigliosa chiesa madre abbiamo chiesto al parroco appunto di poterla aprire anche perché più tardi si celebrerà seppur con un numero ridotto di fedeli verrà ufficiata la cerimonia del santo natale però questa chiesa guardate merita davvero l'abbiamo vista riprodotta nell'opera dell'artista nella riproduzione di appunto Francesco Vaccarella ma guardate appunto questa chiesa con una navata centrale con i vari le varie colonne e i vari archi un meraviglioso rosone anche qui guardate qui sopra la cupola appunto è davvero bellissima e Don Alessandro qui poi abbiamo questo presepe un presepe davvero semplice questa carta di roccia e le dico anche che mi emoziona perché ricordo la mia mamma scomparsa tre anni fa che realizzava appunto in casa il presepe con questa carta di roccia è un presepe molto piccolo molto semplice sembra quasi un presepe di casa e anche quest'anno il presepe in chiesa è ridotto rispetto alla tradizione perché normalmente si faceva un presepe molto più grande c'è una famiglia che si occupa di questo per devozione ma quest'anno l'abbiamo dovuto fare qui sul presbiterio in forma ridotta perché altrimenti avremmo tolto dello spazio ai fedeli mi pare un'ottantina sarà il numero consentito 75 il massimo distanziamento e quant'altro e allora fare il presepe in navata così come si faceva normalmente voleva dire sacrificare altri dieci posti abbiamo preferito dedicare un po' più di spazio alle persone e il presepe rimane un segno importante però un po' più piccolino davvero molto bello però nella sua semplicità e poi la chiesa è già pronta per la veglia quest'anno il simbolo un po' di tutta la liturgia natalizia è la luce e la salvezza sono i due temi principali che si rincorrono nella liturgia della notte con queste candele queste sono le nove candele che sono state usate per i nove giorni della novena di Natale mentre le altre quattro candele che sono sulle scale per raggiungere il presbiterio sono le quattro candele delle quattro domeniche d'avvento abbiamo voluto un po' lasciare il segno del cammino che la comunità ha fatto il cammino spirituale in preparazione alla festa del Natale ci troviamo ora presso il rione convento devo fare una precisazione rispetto a quanto detto prima entrambi i tronchi il legno sia del rione convento che è qui sia quello che abbiamo visto poc'anzi del rione chiesa verranno accessi verranno arsi in ossequio alla tradizione però non ci sarà prima la gara e ora c'è il momento della benedizione da parte del parroco diciamo insieme la preghiera che il signore ci ha insegnato padre nostro che sei in cielo sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci ecco in questo momento il parroco inizia la benedizione con la recita del padre nostro e delle altre benedizioni proprio perché questo momento ha un suo valore spirituale ecco in questo momento inizia la legna nei tronchi ad esserearsi a prendere fuoco e c'è il momento della benedizione del parroco dicevamo è un momento particolare quest'anno non ci sarà la gara tra i due gruppi diciamo le due zone i due rioni in contesa appunto per vedere quale dei legnami è più resistente quale dei legnami appunto dura di più in passato gli anni scorsi c'era questa tradizione questa rivalità storica appunto tra il rione convento e il rione chiesa e si aggiudicava la gara appunto la il rione il cui legname rimaneva per più tempo arso e il rione in cui le fiamme appunto duravano divampavano maggiormente rispetto all'altro quest'anno c'è il covid si fa un discorso diverso un ossequio alla tradizione ma senza appunto gara vedete come appunto il sindaco e altri cittadini di Maruggio si danno da fare appunto per far sì che le fiamme possano prendere possano divampare e ho al mio fianco il primo cittadino di Maruggio il dottor Alfredo Longo si è voluto quest'anno pur nel pieno rispetto delle normative anti-covid comunque mantenere la tradizione come messaggio di speranza è una tradizione secolare e il fuoco anzi due fuochi simboleggiano il calore che la comunità maruggese ha nei confronti del bambin Gesù e quindi è una tradizione che sta appunto a scaldare l'arrivo del bambinello non è tanto fatto per la gente quanto più per devozione verso nostro Signore e quindi quest'anno non poteva mancare assolutamente l'accensione dei due fuochi di Cristo Piccino appunto è un'iniziativa appunto che vuol dare speranza lo dicevamo prima con l'assessore Anna Maria Gioia bisogna riscaldare il cuore con queste tradizioni nel gelo del covid sono fondamentali sono come ben detto un barlume di speranza che è ciò che in questo periodo serve di più ed è ciò che più ci auguriamo per il nuovo anno che sia un anno diverso lo diciamo spesso ma quest'anno vale più di tutti gli altri che sia un anno di rinascita sicuramente nascerà un uomo nuovo dopo il covid speriamo migliore Don Alessandro un valore simbolico di questi tronchi che ardono è il valore della luce è Natale il tema della luce è il tema preponderante anche nella liturgia certo sono anche delle tradizioni molto antiche che hanno delle radici nel passato nel fatto che siamo in inverno e quindi quasi sembrerebbe voler dare un aiuto al sole che deve rinascere alla primavera che deve arrivare prima o poi però certamente è un valore della tradizione certo quest'anno sarà veramente in tono minore perché di per sé il fuoco vuol dire aggregazione c'è la gara non c'è la gara ovviamente ma non ci sarà neanche aggregazione perché non è possibile creare assembramento attorno al fuoco quindi si è voluto solo lasciare un po' il simbolo della tradizione il fuoco non durerà neanche a lungo ma sarà almeno un segno per le persone che verranno alla Santa Messa alla veglia qui nella chiesa del convento e anche alla chiesa madre ecco vedete come i tronchi man mano con il divampare delle fiamme tendono ad ardere sempre più e certamente quest'anno rispetto agli anni precedenti dicevo anche il quantitativo di legna è più ridotto ma ciò che conta è il simbolo e vedere appunto la comunità che nel rispetto lo sottolineiamo delle normative anti-covid vuole vivere il suo momento di spiritualità di tradizione un Natale dicevo che rispetto agli altri anni non sarà lo stesso Natale però lo spirito è quello che conta vedete è anche bello vedere la partecipazione il cittadino che contribuisce appunto ad ardere a far divampare le fiamme anche vedete il sindaco in prima persona che così è pronto ad alimentare il fuoco questa sera devo dire che l'umidità tende un po' a rallentare l'incedere delle delle fiamme è una una sera particolarmente umida devo dire che è una bella serata piacevole però l'umidità è molto forte basti vedere la strada completamente bagnata sembra quasi che ci sia stata la pioggia e tra un po' ci spostiamo proprio in ossequio al rispetto a come dire a rinfocolare la tradizione dal rione convento ci sposteremo al rione chiesa per vedere l'altro cumulo di legname in fiamme ci stiamo spostati dicevo presso il rione chiesa e anche qui si sta svolgendo il medesimo rito che c'è stato prima ossia l'accensione del fuoco prima il rione convento ora il rione chiesa analoga benedizione perché la forza del fuoco è sempre quella per accogliere il bambinello Gesù tra un po' i tronchi i tronconi prenderanno fuoco e il sindaco si accinge a dare fuoco vedete è partito sono partite le fiamme che mano a mano consumeranno appunto i tronchi e il parroco che imprime la benedizione sono davvero belle le tradizioni molto suggestive la collettività di Maruggio vuol vivere il suo Natale non dimenticando quella che è la propria storia la propria essenza un DNA di religiosità profonda questo non è solo un fatto come dire esteriore di apparenza ma in questo modo si vive il Natale la partecipazione appunto nell'imminenza della nascita del Redentore anche qui vedete l'accensione siamo così al momento conclusivo di questo nostro polifemo speciale diversamente Natale diversamente perché non ci sono appieno quelle caratteristiche di tradizioni degli scorsi anni ma il clima dicevo è sempre quello e allora Assessore Gioia è comunque Natale si a Maruggio è Natale si vede abbiamo dimostrato oggi che a Maruggio la magia del Natale si respira vero il sindaco ecco sindaco lo ripetiamo perché ci piace insistere su questo aspetto la forza del fuoco che deve essere la forza che deve forse formare le nostre coscienze e le coscienze dell'umanità in un momento terribile deve forgiare più che altro le nostre coscienze questo è un momento in cui abbiamo la possibilità di imparare tanto abbiamo superato un primo lockdown e in realtà speravamo di uscirne uomini migliori ma così non è stato forse sono venute fuori i sentimenti peggiori dell'uomo anche l'incoscienza e l'irresponsabilità questo è il momento proprio perché c'è l'arrivo dei vaccini a breve di essere responsabili e di seguire le regole lei dice queste cose giustamente da cittadino da medico e da sindaco assolutamente dobbiamo credere nella scienza dobbiamo credere in chi ha messo a disposizione di tutti le proprie conoscenze che a livello mondiale si sono fortunatamente espresse con la creazione di diversi vaccini inizieremo il 27 seppur sarà una forma rappresentativa e poi da gennaio le classi più colpite quindi i medici e gli anziani saranno vaccinati per primi siamo certi che il prossimo anno queste fiamme saranno ancora più forti arriveranno il più in alto possibile e la pandemia ce lo auguriamo tutti sarà un brutto ricordo e basta purtroppo tanta gente non c'è più ma come dicevano i greci pazos matei la sofferenza insegna ci deve rinnovare come uomini nuovi più consapevoli anche delle nostre fragilità tanti momenti in cui davvero si perde tempo rispetto ai veri valori innanzitutto al valore della vita della salute nulla è scontato lo ripetiamo questa è la speranza maggiore è l'accensione di questo fuoco nella dimostrazione fuoco dedicato all'arrivo di nostro signore e quali valori se non quelli cristiani possono ispirarci nell'iniziare in maniera nuova e giusta il 2021 concludiamo con un augurio alla comunità di Marugio grazie mille Luigi un augurio anche a te e a tutti voi auguri a tutti i nostri concittadini a tutti coloro che saranno in casa in questo lockdown teniamo duro ancora per poco un 2021 di speranze e di certezza che i vaccini cancellino distruggano questo male orribile e infame grazie a tutti i nostri